Le aziende del trasporto pubblico locale che operano in provincia di Bergamo, Saab, Autoservizi Locatelli e SAI di Treviglio hanno proposto alla provincia lo stop al trasporto extraurbano per le due settimane centrali di agosto. Dal 10 al 24 agosto le tre aziende sono pronte a lasciare gli autobus in garage in conseguenza dei tagli imposti della provincia. I rappresentanti delle tre aziende ne hanno parlato ieri con l'assessore provinciale ai trasporti Giuliano Capetti il quale probabilmente sottoporrà la proposta alla giunta della provincia già lunedì. L'assessore ha dichiarato all'Eco di Bergamo che la sospensione del servizio susciterà inevitabili proteste, soprattutto gli utenti delle valli potrebbero trovarsi in difficoltà, ma con lo stop in un periodo di vacanze le aziende intendono salvaguardare laboratori e studenti. Ricordiamo che la provincia aveva richiesto alle aziende una riduzione della percorrenza entro dicembre di 450.000 km, pari al 2,9% dell'intera copertura annuale, per un risparmio stimato in circa 700.000 euro. Saab, Locatelli e Sai sostengono di aver scelto il male minore per utenti e dipendenti.